Presidente, perché è vantaggioso per gli abruzzesi questo contratto? Perché è un contratto decennale, consente di fare gli investimenti che i contratti di breve durata o quelli in proroga non hanno consentito finora. Significa treni nuovi, più moderni, efficientamento del servizio, segnalamento a terra, che significa anche attrezzare alcune linee. Parlo in particolare di quella dove verrà messo la RMTS, che oggi non c'è, che è un sistema di sicurezza sulla Vezzano Roccasecca, che è stata fino a poco tempo fa considerata una linea minore o addirittura un ramo secco da tagliare, noi invece potenziamo e miglioriamo e attrezziamo tecnologicamente questo servizio. C'è quindi un recupero, una valorizzazione, una crescita del servizio ferroviario e soprattutto della qualità dei treni che vengono messi a disposizione dei nostri pendolari.